un programma di radio base e sarma notizie conduce Rossella Liguori per lo sport nasce da lontano e poi chiaramente la attestazione in più per quanto riguarda la prima edizione della partita del ricordo come nasce la partita del ricordo l'anno scorso per il venticinquesimo anniversario tra l'altro sì infatti nasce eravamo tre quattro amici parlando del del più e del meno del torneo che faccio in estate sì e dicevamo vogliamo fare questa cosa per le vittime della frana perché essendo tutti di episcopio perché le persone che sfortunatamente sono morte all'epoca sì tanti ragazzi anche ricordiamo quasi tutti a 138 perché sono nato cresciuto ad episcopio sì e con degli amici mettebbero in mezzo questa cosa e diciamo in pochissimo tempo perché 25 giorni l'anno scorso è stata un'organizzazione velocissima perché insomma ci tenevi tantissimo che ci fosse questo tipo di evento a parte che mi occupo di sport o sempre giocare a calcio è diciamo un po' la mia materia su altre cose non non è un ambito che io frequento allora ci siamo messi e abbiamo creato tutto questo in 25 giorni perché era se ricordo bene il 6 aprile la partita l'abbiamo fatta il 9 maggio se ricordo prima l'anno scorso sì però ci siamo allungati con i tempi quest'anno perché il tempo l'anno scorso non è stato credente e quindi però è andata bene l'anno scorso e quest'anno siamo partiti 3 4 mesi prima pensiamo e crediamo che l'evento sarà molto molto bello perché ci saranno io credo da 1500 2000 avete già un dato da questo punto di vista perché comunque e poi ricordare che tutto diciamo il ricavato sì in più perché ovviamente per fare questo ha un costo allora ricordiamo innanzitutto come la partita nazionale nazionale attore italiana ovviamente tutti gli artisti che fanno parte delle fiction radio teatro cabaret tutte le persone le conoscono se vanno a vedere volti conosciutissimi già l'anno scorso e anche quest'anno ci saranno sul sito della nazionale su instagram si si vedono infatti oggi proprio oggi la nazionale ha ha diramato i convocati per l'evento infatti qualche attore ha fatto anche il post che invita le persone a venire allo stadio perché ci saranno loro bene visibilissimo sulla pagina instagram della nazionale attori perché sarà una partita nazionale esatto nazionale italiana attori e rappresentativa della sarnese che praticamente l'ho fatta io un altro amico mio sempre che mi dà una mano insieme comunque ricordiamo che questo questo evento sì io lo faccio in collaborazione con la davis sport italia sebastiano si è vivo lavorate a tambur battente in drà diciamo che specialmente l'ultimo mese qui le cose si corre sempre e poi saranno ex giocatori persone che hanno giocato con la sarnese 20 pure 25 anni fa persone del comune amici perché poi faceva per non è facile mettere insieme 24 giocatori giusto però cerchiamo di far accontentare tutti c'è qualcuno che mi chiama e dice voglio giocare pure io in tanti vogliono partecipare il problema che io nemmeno io gioco cioè potrei anche giocare ma non lo faccio perché a parte che non è bello perché secondo me è meglio dare spazio agli altri e molti mi chiamano però la verità sono molto dispiaciuto perché quest'anno non ce la facciamo io due tre dell'anno scorso non li ho potuti far giocare ma per questioni di di numeri perché l'anno scorso ho fatto venire 27 giocatori ma giocare con 27 persone fa tre partite certo cioè che giocano 5 minuti 10 minuti ciascuno e non va bene poi comunque li teniamo di riserva per l'anno prossimo è probabilmente sì per l'anno prossimo carmine innanzitutto ricordiamo la data 17 maggio stadio felice squitieri alle ore 10 e 30 avete invitato anche tante scuole sì soprattutto le scuole medie sì le elementari no perché purtroppo i bambini sono troppo piccoli a rispondere a campo io non me la prendo come non se la prendono i professori i presidi il litis c'è stato molto vicino l'itc sarebbe l'ex ragioneremo si chiama itc sì la baccelli molto disponibile la mendola molto disponibile e mi dispiace dirlo l'unica scuola che non aderisce mai è il liceo lanciamo un appello io con la preside con la preside sono andata a parlare in prima persona però purtroppo lei non vuole allora lanciamo un appello per l'anno allora per l'anno prossimo speriamo veramente che tutte le scuole possano partecipare vogliamo questa occasione per lanciare proprio questo appello ai dirigenti delle scuole di essere un po più aperti di capire anche quella che è la finalità di questa partita che è sicuramente il messaggio importante eh del ricordo del messaggio della memoria di quello che è accaduto il cinque maggio ma anche aggregativo dello sport e poi a finalità che il ricavato parte del ricavato una parte importante del ricavato è già fatto l'anno scorso ricordiamo anche a chi all'associazione assieme si può che è presidente viaggio rucco esatto associazione dei ragazzi purtroppo con disabilità esatto esatto insieme si può che lavorano sul territorio per tantissimi progetti sono due o tre anni se non sbaglio che sono in piazza si occupano proprio insomma progetti con lo sport progetti per quanto riguarda la musica e vanno ad integrare proprio bambini e ragazzi autistici sono stati felici l'anno scorso di aver avuto questo supporto che poi comunque sono personaggi molto lavorano tanto e poi un'altra cosa che stamattina sono stato chiamato dalla filanda per i ragazzi disabili addirittura mi hanno chiesto il permesso io gli ho detto se il permesso su queste cose penso che non si deve chiedere le porte sono aperte portali al campo ed entrano tutti dentro che ci sono delle panchine il chimo è sulla sedia viene e entra direttamente chi ha delle difficoltà e qualcuno entra e ha detto ma tu la chiamata non me la devo fare vieni direttamente dentro bene quindi si lancia anche un messaggio importante di sport come aggregazione tu dicevi dall'inizio io mi occupo di sport da tantissimo tempo ricordiamo anche l'evento che c'è in sta esatto esatto lo sport aggrega davvero allora io sono del parere perché poi adesso non gioco più sono da un paio d'anni come gli allenatori giocano e poi fanno fare via lì allora io quando andavo a giocare per esempio gli altri comuni città e tutte compagnie a Bella quello che muove la gente è lo sport sì quello che molte persone non riescono a capire però se è la verità io passando da un argomento all'altro comunque sono quest'anno il quattordicesimo anno che farò il torneo Sarno Cup esatto ricordiamo anche questo appuntamento poi sicuramente lo ricorderemo anche più sotto infatti le persone che vengono a Sarno quando si fa il torneo che ci sono le partite diciamo è un punto di ritrovo quindi ragazzi no andiamo nella Mendola no andiamo nella Mendola e lì io riesco a fare un movimento di 4-5 mila persone nell'arco di 25 giorni far conoscere anche il territorio così ma no ma infatti poi non ci dimentichiamo che ho appena appoggio dal comune perché se non avevo l'appoggio dal comune non potevo fare niente allora ricordiamo anche i patrocini della partita del ricordo sì ringraziare il comune di Sarno la Sarno Servizi Integrati con il direttore Francesco Aleo l'avvocato Francesco Aleo il sindaco Edwila Viscardi soprattutto Francesco Squillante l'assessore delle finanze poi c'è Renzo Bagarelli che dopo di me parlerà anche lui che mi dà pieno appoggio perché poi comunque è l'assessore allo sport e tutto il comune mi ha dato pieno appoggio ma già dall'anno scorso e quest'anno diciamo abbiamo un po' ampliato il raggio e poi ovviamente gli imprenditori i privati eh raccontiamo anche questo adesso raccontiamo questo perché? per creare un evento così importante che muove tanta gente muove un'organizzazione che alle spalle tu dicevi l'anno scorso venti giorni venticinque giorni quest'anno sei partito molto prima c'è bisogno di un sostegno un sostegno sicuramente morale ma sicuramente economico ne avevo parlato in privato esatto ne avevo parlato prima bravo quanto è difficile? è molto difficile ma non a livello di organizzazione perché si fa anche con volentieri ma i costi che sono elevati esatto perché tu muovere una nazionale che è disposta da venticinque giocatori sette otto dirigenti eh esatto allenato comunque sono 30 persone tu già ti faccio solo ti dico solo un episodio una cosa che abbiamo fatto per far dormire 30 persone comunque ha dei costi non è facile sì ma mettere poi a Sarno non c'è un hotel tranne quello della pista pit stop però adesso si è cresciuti tanto anche con i B&B a Sarno eh il problema è che in B&B purtroppo c'erano due stanze eh e loro vogliono stare ognuno ok per conto a proprio eh purtroppo abbiamo queste problematiche a Sarno perché l'hotel non ce ne sono fortunatamente c'è Peppe che ovviamente ci ha dato una mano come ci hanno dato una mano gli altri imprenditori che sono abbastanza diciamo sono disponibili tipo tu fai un gran lavoro con i contatti che hai sì la verità ho buone amicizie mi vogliono soprattutto bene c'è un grande una grande stima un grande affetto eh perché per supportare non solo questo evento sono anche tanti gli eventi che hanno bisogno di supporto però riesci davvero ad avere l'attenzione ti aiutano tanto mi so comportare come si dice vabbè hai anche dei buoni risultati con gli eventi che fai fortunatamente sì a me io faccio sempre le cose diciamo che qua uno si mette a disposizione per questo che sto facendo adesso per la nazionale è una cosa per il paese che faccio pure proprio per i biscovi perché comunque sì poi infatti ho invitato una famiglia di una vittima diciamo che io ho visto crescere siamo cresciti insieme sì infatti la mamma ha detto fatemi un piacere venite almeno voi infatti poi leggeremo una lettera che ha scritto una persona che purtroppo non c'è più la scritta che è Dano Ferrentino questa lettera non è mai stata letta capito? in pubblico e io farò questa cosa che il nipote proprio diretto suo che c'è lo stesso nome leggerà prima dell'evento insieme quando faremo la missa perché ci sarà un momento dedicato alla partita prima della partita con Don Antonio Covino sempre ovviamente lui anche lui nato e cresciuto certo ad episcopio e amico nostro e tutto questo ci vogliono le amicizie giuste non saper fare degli incastri il lavoro soprattutto il lavoro giusto perché poi quello dà credibilità il lavoro con dei risultati dà credibilità Carmine un'altra cosa prima del 17 il 16 c'è un altro evento sempre dedicato anche alle famiglie delle vittime dopo ricordiamo 26 anni dalla tragedia del 5 maggio infatti non l'ho pubblicizzato perché la cosa è molto riservato un po' più da invito per le famiglie per per diciamo fare un regalo agli sponsor sì diciamo abbiamo fatto una serata sempre con gli attori il giorno prima che facciamo uno spettacolo di circa due ore loro faranno cabaret ci saranno persone già conosciute in televisione che fanno vari programmi televisivi purtroppo mi dispiace che il teatro a Stavno è di 270 posti quindi se era mille posti che io facevo per me chi viene prima può entrare però fondamentalmente hai voluto che ci fossero proprio le famiglie delle vittime invitato ci saranno molte famiglie qualche familiare qualche mamma qualche sorella perché poi comunque io conoscevo conoscevo direttamente e poi ovviamente tutti gli sponsor perché mi sembra il minimo certo per l'attenzione che hanno avuto il sostegno che hanno dato è giusto che ci sia anche un momento dedicato interamente a loro e poi la verità io ho regalato più di 50 inviti a persone che conosco certo sia ragazzi amici amiche che potessero vivere questa serata a teatro chi mi sono trovato davanti io le ho dati non è che mi devo ricordare o vuoi venire no la verità c'avevo tutti gli inviti le ho dati a chi mi andava ma se qualcuno viene fuori al teatro e c'è posto per me il problema non ce ne sta però ovviamente quando raggiungiamo i 270 posti non posso fare niente più perfetto ne potrebbero entrare altri 20-30 ma devono stare all'impiede ok allora Carmine ricordiamo l'appuntamento innanzitutto ricordiamo precisamente che cosa succederà al campo noi tra l'altro seguiremo l'evento con la regia mobile di Radiobase saremo lì a seguirvi per l'intera partita però ricordiamo che cosa accade nel momento in cui entriamo nel rettangolo di gioco ci sarà un momento dedicato alla preghiera dedicato ad una benedizione ci sarà ovviamente la preghiera messa di donna Antonia Govino poi seguire il messaggio della ragazzina la nipote diretta del compianto amico e poi a seguire ovviamente tutte le ricrezzamenti alle istituzioni e poi si giocherà una partita di 90 minuti dove ci sarà io penso che ci saranno più di ho fatto un calcolo così un 12000 penso al Felice Squitieri di Sanno di cui il biglietto è stato ovviamente una tantum perché un caffè è un pacchetto di sigaretta non è niente sì perché dobbiamo ricordare che ci sono delle spese vive per quanto riguarda l'organizzazione dell'evento ma l'importanza di avere una finalità che sia sociale ed ecco questo incasso che va in beneficenza sì sì infatti tutto quello che ci rimarrà pagate tutte le spese lo daremo tutto molto bello e poi sì faremo oppure ci sarà una ricompensa molto da parte di una persona perché questo qua lo sto dicendo però è un punto interrogativo a sorpresa a sorpresa non posso dire faremo altra beneficenza ci potrebbe succedere altro ok quindi noi ci ritroveremo qui racconteremo anche questo spero di farla anche all'altro però io ho detto già è un po' difficile perché però è molto bello questo aprire ha tante possibilità ci può essere la possibilità di aiutare anche qualcun altro molto bello questo è la verità noi abbiamo la seconda opzione però purtroppo vediamo ti ho detto che i corsi sono molto hai ragione hai ragione allora ricordiamo l'appuntamento quindi la partita del ricordo per non dimenticare il 5 maggio del 1998 venerdì allo stadio Felice Squitieri rappresentativa sarnese contro la nazionale attori la nazionale italiana attori ore 10 e 30 allo stadio Felice Squitieri ci sono ancora dei biglietti qualcuno che ci ascolta che voglia comprare dei biglietti raccontiamo dove i biglietti in vendita saranno messi al botteghino fuori allo stadio perfetto quindi anche lì qualcuno che vuole insomma assistere alla partita può venire direttamente fino a domani a mezzogiorno saranno sia al bar vita ok sia al tesi caffè prima dove sta il campo più o meno qui a Sarno 12 punti di vendita dove perfetto quindi chi voglia prendere parte alla partita può ancora acquistare dei biglietti sia questi due punti che sono rivendite sia per quanto riguarda il botteghino all'esterno dello stadio Felice Squitieri Carmine volevo dire un'ultima cosa quello che ci stanno ascoltando non lo so andate sulla pagina instagram della nazionale italiana attori hanno messo tutti i convocati così voi vedete senza dire no domani mattina lo pubblicheremo anche su Sarno notizie l'unica cosa perché qualcuno mi ha chiesto tu sai chi vengono ho detto non lo so non mi voglio esporre l'hai tenuto un po' no ma dopo non posso fare brutte video esatto ora che sono ufficiali l'hanno messo direttamente loro sulla loro pagina e poi hanno fatto tre attori uno è molto conosciutissimo se lo vedono tre video messaggi di cui invito delle persone ad aderire alla partita perché poi io spero che andrà tutto bene bene allora seguite la pagina c'è anche una pagina instagram di Sarno per lo sport che va un pochino aggiornata però iniziate a seguirla piano piano invitiamo i radioascoltatori a seguirla perché sarà aggiornata anche per quanto riguarda le foto che ci saranno venerdì quindi pagina instagram della nazionale italiana attori in cui ci sono tutti convocati per la partita del 17 maggio qui a Sarno troverete anche dei video messaggi seguite anche la pagina instagram Sarno per lo sport che sarà presto di nuovo aggiornata e chiaramente i convocati li metteremo saranno pubblicati anche sui social di Sarno Notizie e di Radio Base vogliamo aggiungere qualcosa in chiusura andate a comprare i bietti partecipate perché ha una finalità importante infatti sì e poi domani sera venite al teatro se è possibile se avrò possibilità di farvi entrare perché no perché purtroppo non posso fare altrimenti ci piace questa bella disponibilità tutti i posti sono noi all'incirca 230-240 li abbiamo già distribuiti ma se vengono tutti non c'è posto ma può saltare sempre qualcuno perché lo sai all'ultimo momento può capitare qualcosa perfetto quindi questo è tutto partecipate seguite anche le pagine social per restare aggiornati noi manderemo in diretta quello che succederà dal rettangolo di gioco ma anche dai tantissimi protagonisti della partita del ricordo chi vuole può ancora acquistare i bietti Carmine grazie per essere stato con noi grazie a te Rossella grazie grazie a Carmine Molisse dell'associazione Sarno per lo sport grazie a chi ci ha seguito oggi lascio la parola all'assessore Renzo Bacarelli l'ho anche presentato tra poco ci raggiunge grazie ciao buonasera un programma di radio base e Sarno notizie conduce Rossella Liguori grazie a tutti grazie a tutti